Ecco si sta per sfondare per entrare dentro piazza Montecitorio Ecco la polizia sta iniziando a caricare soliti pezzi di merda che non sono altro che usano i manganelli contro gente che non ha nulla Buttatelo giù! Buttatelo giù! Buttatelo giù! Pezzi! Raga! Doi e giù! Doi e giù! Doi e giù! Questo è quello che merita il nostro Stato! È in città! È in città! Questo è quello che si merita il nostro Stato! Questo è quello che sta facendo la polizia! La polizia è negli imprenditori! È quello che fanno le forze dell'ordine Ma dalle partite IMA! Ecco quello che fate! Ecco quello che siete! Ecco! Ecco! Ecco quello che siete! Ecco! 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 Ecco una missione! Questa è quella che fa la polizia italiana e degli imprenditori! Merde! 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 Non ci rendiamo! Sono pagati con i nostri stipendi, con le nostre tasse! Bastardi! Nozzisti! Di questi palapunti! È una manifestazione pacifica! La polizia ha iniziato a caricare dei manifestanti in maniera pacifica! Merde! Stai facendo ancora! La salampetti! Questa è! Tanto ci sono anche le telecamere! Merde! Libertà! 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 Libertà!